buongiorno il vangelo di oggi continuando il capitolo 19 di luca i versetti dall 11 al 28 ci propone la parabola delle mine cioè delle monete d'oro che il signore ricco e di nobile famiglia che parte per un paese lontano lascia ai suoi dieci servi una per ciascuno una prospettiva diversa dalla parallela parabola sui talenti che racconta matteo dove a ciascuno viene data una quantità diversa di monete qui invece ciascuno riceve lo stesso e quindi con la stessa dignità con la stessa potenzialità quello che accade dopo mentre però l'uomo è lontano e che ciascun servo traffica questa moneta e il guadagno è ben diverso tra di loro dieci monete ne guadagna il primo 5 secondo l'ultimo invece non fa fruttare per nulla quanto ha ricevuto perché seppellisce in un fazzoletto che nasconde la moneta d'oro ricevuta e poi la restituisce così come al suo padrone quando ritorna perché di lui ha avuto paura ebbene la parabola sintetizzata così brevemente certamente un invito a darsi da fare qui adesso nella nostra vita a trafficare il dono ricevuto la moneta d'oro che certamente è la vita stessa ma ancora più la vita nello spirito avuta in dono per il battesimo e tuttavia questo non far fruttare allo stesso modo per Gesù più che diventare un giudizio punitivo verso le persone o al contrario un'esortazione moralista a darsi da fare di più è una domanda che si apre nell'intimità di ciascuno di noi perché la chiave più profonda della parabola riguarda piuttosto l'idea l'immagine che abbiamo nella nostra testa di dio e infatti questo uomo considerato severo quest'uomo considerato come uno che prende quello che non ha messo in deposito e miete ciò che non è suo ecco un uomo che rappresenterebbe il dio che si porta in testa il servo che nasconde la moneta un dio che giudica un dio che castiga un dio cattivo questa immagine è molto più dentro della vita della gente di quanto si possa pensare a un dio così si può restituire solo paura oppure al contrario fuggire per non scaricare solo rabbia questo dio non è il dio di gesù la parabola ci invita a riconoscere che solo il dio che è amore può essere quello che gesù ci pone davanti perché è un dio che camminando verso gerusalemme non si ferma e nel figlio arriva fino a dare lui la vita dopo essersi nascosto come una moneta d'oro nella profondità del terreno che è in sepolcro dal quale risorgerà dando i frutti più belli per tutti chiediamoci qual è l'immagine di dio che portiamo noi dentro e come questa immagine di dio orienti le nostre scelte la nostra vita i nostri sentimenti è il dio di gesù cristo è il dio che ci ama fino a dare la vita per noi questa è la nostra gioia che possiamo sentire fin d'ora noi che abbiamo goduto del dono della moneta d'oro del battesimo buona giornata